Un caffè virtuale questa mattina con Martina Naccarato, una collega, una giornalista che però ha una storia davvero particolare. Martina, io partirei proprio da questa, senza nascondere nulla, insomma tu sei una ragazza disabile che però comunque nonostante questo e devo dire anche con grande coraggio ha sempre superato le sue barriere e ha rincorso questo sogno appunto di diventare giornalista. Intanto io partirei da qui. Martina. Ciao a tutti, grazie Greta per avermi dato questa opportunità. Sì, io sono giornalista iscritta all'albo dei pubblicisti dal 2018 e scrivo ormai da diversi anni diverse cose appunto che vanno dagli articoli di giornale a aforismi, poesie, prose e poetiche. Scrivo praticamente da tutta la vita. Questa passione Martina per la scrittura ha appunto sia giornalistica che anche eh letteraria. Dove nasce? Perché nasce? Qual è l'esigenza? Insomma c'è una storia particolare, personale, familiare o è semplicemente una spinta che hai sempre avuto? sinceramente non lo so neanch'io nel senso che è una passione che ho da quando da quando ricordanza cioè nel senso io da piccola anziché giocare con le bambole a 7-8 anni avevo il mio quaderno, la mia agendina e scrivevo praticamente qualsiasi cosa. Senti il tuo percorso proprio per diventare giornalista come è stato? Faticoso? Normale? Liscio? O hai avuto qualche difficoltà? Il percorso è stato normale cioè faticoso sì ma come come lui è per tutti nel senso i i classici due anni di praticantato presso una testata registrata che non so se si può nominare quella. Certo sì sì. Ho fatto io il tirocinio che è Casentino 2000 mi ha dato la possibilità di prendere la tessera con i classici due anni di articoli e tutto il resto poi il corso a Firenze l'iscrizione all'albo il pagamento delle tasse classiche le le difficoltà sono arrivate invece quando ho iniziato a a sperare di vivere di quello che scrivo perché ancora da da questa cosa invece sono sono molto lontana. Ecco tocchi un tasto Martina che ovviamente noi abbiamo detto ma per onor di cronaca che tu sei ehm appunto una ragazza disabile ma eh questo non ha inciso minimamente nel tuo percorso eh tanto meno nel percorso da da giornalista perché così come tutti i normodotati sei entrata in questo bellissimo mondo ci eh poveri non dico disoccupati ma quasi perché comunque sia il mondo dell'editoria tu sai le crisi eh i giornalisti tra l'altro mh avrai studiato insomma nei nei libri di deontologia e di storia del giornalismo che l'Italia è l'unico paese che ancora conserva eh l'ordine e va bene così ci mancherebbe altro però detto questo magari avere qualche tutela in più qualche eh come dire qualche eh di lavoro in più forse non farebbe male va bene ma polemiche a parte come dici tu fai ancora fatica a vivere di quello che scrivi perché perché il giornalista è eh pagato poco perché non trova sbocchi perché Martina no eh sicuramente perché ehm sono dico la verità secondo me sono poco diplomatica e fin troppo onesta forse anche questo diciamo non mi aiuta a fare a fare cadere nel mondo del giornalismo o comunque della letteratura e poi perché per quanto per quanto riguarda la letteratura appunto scrivo scrivo cose che principalmente si rivolgono ad un pubblico d'elite perché diciamoci la verità già la gente legge molto poco e sicuramente se non legge eh cioè se legge non legge poesie o comunque prose poetiche come come quelle che molto spesso scrivo io. Allora veniamo al motivo insomma al di là della tua storia personale che è molto bella interessante e che lancia comunque degli degli allarmi che ripeto riguardano tutta la categoria di noi giornalisti e che raccogliamo volentieri. Detto questo eh invece eh il prossimo sabato tu hai eh il dieci di giugno giusto? Questa presentazione ecco di questo tuo di questo tuo libro come si intitola e che cosa contiene? Eh sabato dieci giugno alle quattro e mezza ci sarà la seconda presentazione del mio quarto libro la prima che verrà fatta da Rezzo e il mio libro è il mio la mia quarta fatica letteraria come si dice in gergo che si intitola lettera alla vita che appunto è un breve testo che contiene principalmente delle pro delle cose poetiche appunto che sono un inno alla vita all'andare all'andare avanti nonostante tutto ma andare avanti non non nel senso di sopravvivere ma di vivere a pieno la vita e soprattutto quando dico nonostante tutto non intendo nonostante la disabilità ma nonostante le difficoltà che la vita mette mette di fronte a ognuno di noi e nonostante quei dolori che possono essere eh a dir poco laceranti e rappresentare il giro di boa nell'esistenza di una persona. Sì esatto Martina io devo dire eh quando ci siamo insomma confrontate sentite per raccontare altri aspetti della tua vita ho sempre apprezzato il fatto che tu non hai mai messo di fronte a questo la tua la tua disabilità e l'avresti anche potuto fare perché voglio dire è sicuramente quanto meno un limite un limite fisico per alcune cose sicuramente non lo è non lo è mentale tantomeno per il tuo sviluppo della vita. Detto questo eh il 10 di giugno dove Martina le persone potranno partecipare se ci sarà un firma copia insomma raccontaci un po'. Sì ci sarà ci sarà la la presentazione un firma copia il libro verrà presentato principalmente da un mio ex professore che non so se si può nominare oppure no però un mio ex professore d'italiano che è Francesco Cortonesi e poi ah caspita conosco bene Francesco ci sarà un'attrice che che leggerà alcune alcune parti del mio libro e poi si si sarà un firma copia tutto questo nella palestra spazio body di via Ombroni ad Arezzo zona saione per capirsi a che ore? A che ore Martina? Dalle 16 e 30. Dalle 16 e 30. Allora l'appuntamento l'abbiamo dato ti facciamo un grandissimo eh in bocca al lupo per il tuo futuro sia di giornalista un consiglio intanto potresti aprire un blog personale chissà magari eh su quello puoi davvero fare fare e scrivere quello che vuoi e dare le tue opinioni però insomma questo ovviamente è un consiglio così da è il mio prossimo progetto dopo la seconda laurea in filosofia che prenderò alla fine dell'anno quindi nel 2024 il blog sarà il mio prossimo progetto vedi che allora ci siamo ci ritroveremo qui per parlare di quest'altra novità di questo perché poi insomma oggi la rete credo Martina che offra veramente eh se per certi versi è eh negativa per il mestiere del giornalista e te lo posso assicurare insomma per alcuni aspetti lo è sicuramente per altri però ecco apre tante strade che prima non esistevano e quindi prendendo il bello no di queste nuove opportunità sì sì sicuramente si può disegnare un futuro di nuovo un grande invocatore allora tutti stamattina nonostante nonostante i numerosi impegni di entrambe stamattina siamo riusciti ad essere qui quindi esatto esatto questa questa cosa della distanza che non è bellissima però ci consente comunque di fare una bella chiacchierata ti chiedo di salutare Martina non solo i telespettatori di Arezzo TV ma anche i radio ascoltatori di Radio Fly perché la tua intervista va in onda anche su Radio Fly grazie mille un saluto a tutti grazie per avermi ascoltato e che dire allora vi aspetto il 10 di giugno a Spazio Body